Possiamo dire in qualche modo di aver visto l'ennesimo punto esclamativo su una stagione clamorosa da parte dell'Inter Lo voglio dire, diciamolo con grande tranquillità perché l'Inter che va a giocare a Bologna L'Inter che va a fare una trasferta al Dallara contro quella che in questo momento dal mio punto di vista è la squadra, dopo l'Inter, più in forma del campionato E' un Inter che nonostante qualche sofferenza, perché qualche sofferenza c'è, nonostante debba metter giù, andare a fare una stesura della gara con intelligenza, con capabilità Comunque vince, dimostra tutta la maturità che Simone Inzaghi fino a questo momento ha raccolto e presentato per l'Inter E allora prima di iniziare, oggi giornata pazzesca di calcio dove ci saranno altre tre partite, oltre all'analisi del day after dell'Inter, oltre alla live reaction di Fiorentina-Roma E prima di iniziare vi ricordo due cose, la prima vi lascio qui in alto il numero, siamo arrivati a 501.290 iscritti, arriva a 501.400 iscritti Se volete un approfondimento particolare sull'Inter Altra cosa, qui sotto in descrizione vi lascio il link di Sportium Lab, avrete la possibilità andando su questo link di seguire, anzi avrete la certezza di seguire la pagina Instagram di Sportium Lab Dove ogni giorno mettono contest su contest per provare a vincere biglietti VIP Per andare allo storia a vedere Milan, Inter, Juve, Roma, Lazio, Napoli Biglietti VIP in territorio italiano o europeo Che ve costa provare, tentate di vincere questi biglietti e provate a portare a casa la pagnotta Detto questo, quello che dovevo dire ve l'ho detto, partiamo con il parlare della partita di ieri e di quello che oggettivamente ci ha lasciato La partita di ieri, che cosa ha lasciato a me la partita di ieri? Partiamo da questo presupposto qua Ha lasciato un'Inter diversa Che secondo me sarà pietra miliare delle prossime gare E voi direte, vabbè Sic, ma il campionato è bello che è finito Ed effettivamente è così Cioè se oggi la Juve o il Milan o entrambe dovessero rallentare Cioè l'Inter addirittura ha un cuscinetto di 18 punti di vantaggio Probabilmente vincerà lo scudetto matematicamente ad aprile Quindi qualcuno, chiaramente i più furbi, penserà nel Milano Vabbè Sic, ma a che serve parlare di come l'Inter approccerà le ultime gare di campionato? Ve lo dico io Serve non per il campionato, ma per la UEFA Champions League Che cosa sto cercando di dire? Che quando andrai a giocare in Champions League Già adesso, tra tre giorni, che farei la trasferta difficilissima del Wanda metropolitano Ecco, già lì bisognerà approcciare alle partite in un modo diverso Poi è chiaro che l'Inter c'ha sempre quel modo lì nella testa, no? Cioè l'Inter c'ha sempre il modo di dire Io vado, attacco, costruisco, creo, mi faccio la mia partita E provo a vincere le partite offendendo Ok? Costruendo, avendo un'idea di gioco Quindi un Inter difensivista a prescindere non la troveremo mai Però una squadra come l'Inter Che ora si concentrerà sulla Champions League E che dal mio punto di vista Di squadre superiori ne ha poche Conto il City, conto il Real Forse ad eliminarla ci può riuscire il Bayern Monaco Qualcuno quando l'ho detto mi ha detto Eh il Bayern Monaco che perde anche con la Lazio Poi l'ha arato, poi l'ha arata Il Bayern Monaco che è 10 punti sotto il Leverkusen Raga, con tutto il rispetto Se oggi l'Inter affronta il Leverkusen è che ne da 7 Ok? Cioè Leverkusen sta facendo bene Non dico che è un caso più unico che raro Però siamo lì E ieri l'Inter gioca da grande squadra Ma gioca con la coscienza della grande squadra L'Inter ieri fa un 40% di possesso palla Cioè per farvi capire Non faceva così male dal pareggio Con la Real Sociedad che obbligò l'Inter a passare da seconda L'Inter ieri fa 5 tiri in porta E il Bologna 19 Cioè quindi sotto questo punto di vista Dovendo poi tirare le somme Il Bologna fa bene Il Bologna fa molto bene Però l'Inter vince A dimostrazione di saper vincere anche soffrendo Perché la differenza dall'anno scorso Di un Napoli che distruggeva Che arava tutte le squadre che gli capitavano a tiro Sta nel fatto che l'Inter questa cosa La fa ma non per forza Nel senso che l'Inter Se c'è possibilità Arriva, distrugge e passa alla prossima Però se la gara si mette In Diciamo Su binari Tutt'altro che semplici Se la gara prende una difficoltà Ecco che allora L'Inter sa vincere anche le gare difficili Ora noi questa cosa Lo scorso anno al Napoli Non potevamo saperla Perché il Napoli Diciamo a scanso di un paio di partite Non ha mai realisticamente sofferto in tutto il campionato Ok? Praticamente mai Vinceva le partite perché dominava il campionato Ora quest'anno ha perso Spalletti Quindi ha perso magari una mente geniale Quest'anno ha perso Kim Ha perso anche fiducia Tra la dirigenza, l'allenatore e la squadra Però quest'anno quando poi è arrivata la difficoltà Il Napoli non ha saputo reagire Non sapeva come reagire Il Napoli E questa cosa all'Inter non succede Cioè se l'Inter ha un problema L'Inter supera il problema E questo secondo me è un aspetto molto importante Specie quando poi si faranno gare importanti Votate alle competizioni europee Ieri tutti quanti Sta cosa non l'ho apprezzata particolarmente Un botto di interisti che insultavano Tiago Motta Non l'ho apprezzato perché credo che Per quanto Tiago Motta ieri Possa essersi lamentato in occasione Dell'infortunio di Arnautovic Perché realisticamente Se cade dal nulla un giocatore avversario Al 94esimo e tu stai sotto 1-0 in casa Pensi che il giocatore stia perdendo un po' di tempo Ho visto gli interisti Sai la merda Tiago Motta Fai schifo Io se non erro Tiago Motta è stato anche un titolare triplettista Un giocatore che ha dato geometrie all'Inter Minchia che memoria corta Cioè non è che devo dire che perché è stato un triplettista Va difeso in ogni caso Però cioè veramente mi è sembrato come se fosse bastato Un quarto d'ora 10 minuti, 5 minuti Un paio di lamentele Per dimenticarsi quanto Tiago Motta ha dato all'Inter Cioè a me piace quando un allenatore Che ne so un giocatore della Roma è diventato allenatore E io lo rivedo da me no Personalmente ci tengo insomma a vederlo Sono contento Boh insulti dal mio punto di vista gratuiti Che poi diciamo anche una cosa Che il Bologna Ieri Proprio per i dati che vi ho detto Per le statistiche Questa è una cosa figa Se la gioca a viso aperto Cioè il Bologna di ieri Conosce i propri limiti Ma conosce anche le proprie capacità Proprio per tale ragione Affrontando l'Inter Non significa Che tu dovrai andare a Chiuderti Dovrai andare a Spaventarti No No Tu scendi in campo Tu scendi in campo E te la giochi alla pari Questo è quello che ha fatto ieri il Bologna Spesso Tante volte Andando a chiudere l'Inter Nella propria area di rigore Poi È chiaro che Stringi stringi Se andiamo a parlare di efficacia Se andiamo a parlare di Risultato Effettivo Di occasioni create Il Bologna Gioca tanto Ma ne crea poche Io di grandi chance del Bologna In mente non ne ho Se devo dirvi la verità In mente non ne ho Però se l'è giocata alla pari Cioè Regà Il Bologna è una squadra Che lo scorso anno Anzi che a settembre Quando abbiamo fatto Il pronostico delle classifiche Qualcuno Ci sperava Che potesse far bene Ma tanti altri Dicevano Ma Sì Tredicesimi Quattordicesimi Quindicesimi Il Bologna Di ieri Che poi bisognerà capire Se Di fatti Di fatto Sarà una squadra Che si giocherà la Champions League Fino in fondo Se Avrà A che fare Con delle problematiche Nelle ultime partite di campionato Il Bologna di ieri È una squadra Da Champions League Cioè Una squadra che affronta l'Inter Dice Vieni Ti prendo di petto Provo a sconfiggerti Poi perde Però lo fa Però lo fa E' un po' Quello che fa la Roma Segnandogli Chiaramente Perché la Roma Va avanti 2-1 Per perdere 4-2 Però E' un po' Quello che fa la Roma La differenza è che la Roma Ha cominciato a farlo Da un mese e mezzo Mentre il Bologna Lo fa da inizio anno E questo per me È un aspetto Tutt'altro che da sottovalutare E poi Prima di fare Le Pappappappappappapp Gelle Dell'Inter Come al solito Mi vorrei soffermare Su un aspetto Cioè le parole di Barella Nel post partita Barella Non so se l'avete sentito Io ero lì Con da sonno aperto Quindi l'ho sentito Dice Io Dopo il Genoa Sono stato additato Come un simulatore Il mio intento Non era di fare una simulazione Ma ho sbagliato Nella reazione Quando si sbaglia Si può chiedere scusa Mi sento di chiedere scusa Per quel momento Quando vuoi vincere Fai cose che non vuoi fare E quindi Voglio chiedere scusa Ecco Questo per me Non è paraculagine Perché non avrebbe senso Perché l'Inter ha vinto Ha vinto con il Genoa Ha vinto con il Bologna Ha vinto tutte le ultime partite Con la vittoria Al Dallara Fa 10 di fila Perché nessuno odia Barella Certo qualcuno Gli ha dato del simulatore Ma non è stato Non gli è arrivata Una shitstorm Quindi Vi dico la verità La cosa di Barella Che simula Eccetera Sarà già sgonfiata Nessuno L'avrebbe Gli avrebbe messo addosso La pecetta L'etichetta Di simulatore Per le prossime partite Quindi non c'era bisogno Delle scuse A livello Progettuale Cioè tu Per la tua carriera Non avevi l'obbligo Di chiedergli scusa Perché Magari Chiedere scusa Poteva In una situazione Pessima In una situazione Pesante Portare a un A un problema All'interno All'interno Della carriera E dell'onda Della carriera Di Barella Questo non era Questo Cioè non ce n'era bisogno Quindi il fatto Che Barella L'abbia fatto Senza particolare motivo Dimostra anche La serenità Con la quale L'Inter Sta affrontando Questo campionato E la maturità Dei calciatori Dell'Inter Specie di Barella Che è diventato In questo momento A tutti gli effetti Il miglior centrocampista Dei Nerazzurri Quindi Grandi complimenti Dal mio punto di vista Grandi complimenti E grandi applausi Detto questo Facciamole Anzi facciamo una cosa Facciamo una cosa Facciamo un cambio Di direzione Va Allora Non ce sto a riuscire Però Volevo fare un cambio Di direzione Volevo mettere L'Inter No regà Non ce sto a riuscire Vabbè Non so perché Ogni tanto Mi sembra La facciamo così Pa 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 Pagelle Allora io mi metto qua E facciamo le pagelle Dell'Inter Prima di iniziare Vi invito a lasciare like Mi raccomando Lasciate like E supportatemi Partiamo da Sommer Allora Sommer Gli diamo un 6,5 Non fa niente Di eccezionale Cioè quando vi dice Vuol Bologna Crea Bologna Crea Bologna Crea Sì Bologna Crea Però poi Quante volte Realmente Sommer si trova Costretto a fare Dei miracoli Io non ne ricordo Però Se arriva un pallone Lui c'è preciso Se arriva un traversone Eccolo che salta Se c'è da fare Un'uscita bassa Fa un'uscita bassa Se c'è da fare Un'uscita alta Fa un'uscita alta Se c'è da sicurezza Al reparto Da sicurezza al reparto Cioè in questo momento Sommer è un portiere Che ti fa vivere Le partite in modo tranquillo Inoltre Con la giornata Con la serata di ieri Con il pomeriggio di ieri Sono 17 Clean shit 17 Clean shit In 29 28 partite Cioè Vi rendete conto Che questo ha preso Col solo in 11 partite Totali Su 28 Cioè È qualcosa Che dal mio punto di vista Non sta in piedi Cioè è una cosa Aliena E quindi Gli faccio i miei Grandissimi complimenti E il 6 e mezzo Glielo do Per quanto riguarda I difensori Ce n'è uno Che ha fatto meglio Degli altri due Ma tutte e tre Hanno fatto molto Molto bene A Cerbi Gli do 7 Innanzitutto Diciamo che In passato Quando Cerbi E Zirze S'erano affrontati Il difensore Ex Lazio Spesso Ne era uscito Un po' Con le ossa rotte Per gli inserimenti Per i movimenti Sembrava veramente Non capirci nulla Da tempi Ricenti Cioè da ieri A Cerbi Si è Innalzato Si è aizzato A calciatore Che ha praticamente Azzerato Zirze Quindi Bene 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 Sette più a bastoni Perché Perché dietro Non fa nulla Cioè nel senso Non passa nulla Fa la sua buona Ottima Precisa prestazione E le cose Finiscono lì La grande Sorpresa Poi sorpresa Il grosso Della sua partita Diciamo così Lo fa davanti Con le sovrapposizioni Con gli inserimenti E poi fa l'assist Per il gol In questo momento Bastoni E lo dico Da un po' di tempo Con Inzaghi Ha trovato Una dimensione Simil Gasperini Simil Gasperiniana E per me Questo è un grande Punto a favore Cioè se l'Inter Corre È in merito Di Inzaghi Chiaramente Oltre che Di chi ha fatto La squadra Dei giuratori Insomma è un merito Poi ne parliamo In un approfondimento Se volete Ma è un merito Condiviso Però La cosa che ci tengo A dire È che L'Inter Sta tenendo molto Quell'idea di Gasperini No E Bastoni Che fa l'assist Con Bissek Che fa gol È una cosa tipicamente Atalantina Con le Con i braccetti Che si alzano entrambi Ecco Ecco Questa cosa Sta dando Molta forza Ai nerazzurri Bissek 7 e mezzo Possiamo dire Bissek Migliore in campo Io penso proprio di sì Diciamo che Fa gol E quindi decide La partita Perché l'unico gol Della gara È di Bissek Ma poi la cosa bella È che in questo momento Mi trovo a credere Che l'Inter giochi con Bissek Che giochi con Bastoni Che giochi con Acerbi Che giochi con Darmian Che giochi con De Frey Che giochi con Pavard È la stessa cosa Anzi delle volte Quelli meno quotati Tipo Acerbi Tipo Bissek Fanno la differenza E per me Questi sono aspetti Da non sottovalutare Poi il fatto che Arriva il cross Da un braccetto E segni l'altro braccetto È proprio la dimostrazione Guardate L'altra dimostrazione Gasperiniana È appunto Che il quinto Il quinto Crossa sul quinto E l'altro quinto Va a far gol Ecco Queste sono proprio Le basi del calcio Di Gasperini In mediana A Cancio La Noglu 6 e mezzo Devo dire Che non ha fatto Niente di eccezionale Mi sembra Si sia Risparmiato Anche In vista Dell'Atletico Madrid Tornava dopo Qualche giorno Di assenza Quindi C'è la Noglu 6 e mezzo Ci sta E do 6 Meno Ad Aslani Perché gioca Una mezz'oretta Dicevo ieri Nel video La La scelta Di Inzaghi Di togliere Mezz'ora alla fine C'è la Noglu Per far giocare Aslani È una scelta Più unica Che rara Cioè È una soluzione Che Qualche Settimana fa Inzaghi Non avrebbe mai Messo in atto Perché Perché Aslani Non era pronto Perché C'è la Noglu Era insostituibile Perché l'Inter Passava Da I palloni Del Turco Ecco Adesso Aslani Specie dopo L'infortunio di C'è la Noglu E il tempo Gli è stato concesso C'è la possibilità Di giocare Quando ce n'è bisogno Quindi è entrato A tutti gli effetti Negli schemi Dell'Inter Certo Do 6 meno Perché a un certo punto Perde un pallone Che rischia di mandare Capra e cavoli A quel paese Però alla fine Non succede Quindi salvo lui Barella 6 meno Perché Barella Non mi ha fatto Impazzire Nel senso Che c'è l'occasione Di far gol Spesso Quei gol li fa E invece Tira addosso A Parasco Però Tira addosso A Skorupski Pochi inserimenti Pochi Spunti Offensivi Il centrocampo Dell'Inter Ieri non è stato Secondo me Così tanto sufficiente Forse il migliore È stato frattese Di cui parliamo Tra un attimo Che subentra Il posto di Mkhitaryan Al quale Do 6 Diciamo che Diciamo che ha fatto Il compitino Mkhitaryan Cioè non mi dà mai L'idea Nella partita di ieri Di fare il Mkhitaryan Di salire in cattedra Però L'impressione È che tutti Un pochino Si stessero risparmiando Per la gara Contro l'Atletico Madrid Che per me È assolutamente Comprensibile Cioè io non Non voglio malgiudicare Questa scelta Al suo posto Entra Frattesi Frattesi 6 più Cioè Frattesi A centrocampo Il suo lo fa 6 e mezzo Diamo 6 e mezzo Diamo 6 e mezzo Anche a Frattesi Cioè Pian pianino Ieri ad esempio Entra anche al posto Di Mkhitaryan Quindi vediamo C'erano Glubarello e Frattesi E poche volte Ce l'ha fatto vedere Inzaghi Questo duo di mezzali Cioè molto spesso Andavamo a vedere Barella O Frattesi Quindi Sono caratteristiche Che se Inzaghi riesce a sviluppare Crea un centrocampo Pazzesco Pazzesco Frattesi Parma Che quando arriverà All'Inter Non dico che farà Il titolare Dicevo io Però sarà molto utile Nelle rotazioni Dell'Inter Ora sono passati anni Darmian Che cazzo è Darmian vincerà Questo scudetto E lo vincerà Da protagonista La partita di ieri Non è che è una partita Eccellente Da dire Cazzo Mamma mia Che gran partita Però È l'ennesima prova Che se c'è bisogno Di Darmian Darmian Gioca dove Il mister Da braccetto Da terzino Da esterno Per questo credo Che molto probabilmente Così come Acerbi Spalletti Difficilmente farà Meno di loro Per l'europeo Perché sono calciatori Troppo 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 Utili Per questi Inter qua E per Eventualmente Per la nazionale Dalla parte opposta Gioca Carlo Sagusto 6 e mezzo Anche a Carlo Sagusto Fa un tempo Fa un tempo Perché a fine primo tempo Si fa male Però A parte che mette anche lui Il piede sul gol Del vantaggio Dell'Inter L'unico gol Della partita Ma poi spinge 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 È un trattore È un cazzo di trattore Oddio Spaccato tutto È un cazzo di trattore Ragazzi Carlo Sagusto Non lo fermi mai È in fase difensiva È in fase offensiva E corre Va avanti E va dietro E si fa vedere Spinta Eccetera Cioè è un giocatore Che veramente Bisogna Bisogna prenderlo Per la maglia E buttarlo a terra Per toglierlo Da mezzo Bravo veramente Al suo posto Il suo tempo Lo fa Dunfries 6 Dai 6 Magari a gara In corso Da Dunfries Essendo che è molto rapido Che è molto veloce Che è molto forte Che dovrebbe essere devastante Ma aspetto Quel qualcosina in più Quel qualcosina in più Che Dunfries Non dà Nella gara di ieri Fa il suo Ma aspetto Qualcosina di più Però comunque Un'ottima partita Davanti giocano Turam e Sanchez Quindi Inzaghi Fa riposare Lautaro Martinez Merio Se era squalificato Lo fa riposare Forse era squalificato Fatto sta Che giocano loro due Turam Turam è sufficiente Turam 6 Non si spreca troppo Perché Perché comunque Tra due giorni Tre giorni C'è l'Atletico Madrid Dall'altra parte Però Permettetemi di dire Che Quando abbiamo visto Turam con Arnautovic È sempre funzionato Quando abbiamo visto Turam con Lautaro È sempre funzionato Quando abbiamo visto Turam con Sanchez Turam è sempre un po' Col freno a mano tirato Al suo posto Entra Arnautovic 6 Entra Viene sommerso Dai fischi Non fa praticamente nulla Finisce facendosi male Quindi Alla fine Non è stata una Bella Serata Un bel pomeriggio Per Arnautovic Che la sua Mezz'oretta 20 minuti Li gioca Sanchez 6 e mezzo Sanchez 6 e mezzo Nelle ultime partite Sanchez Non ne sbaglia una Ad esempio Ieri non fa l'assist Però nell'ultima partita Ha fatto sempre puntualmente È un assist Ogni volta ha fatto un assist E L'Inter si può fare affidamento Su un giocatore di questo tipo Avendolo come quarto D'attacco Perché sulla carta Arnautovic si è fatto male Però Sulla carta Arnautovic È il quarto Vuol dire veramente Che i nerazzurri Sono al Sono Al momento In un upgrade Dove Anche gli ultimissimi Gli Arnautovic Sanchez Iglasian Gli Aslani Eccetera Iniziano a prendere Un po' Di Un po' Di cazzimma E che giocheranno Molto spesso Simone Inzaghi 8 Darei 10 Come le 10 vittorie di fila Inzaghi 8 Ragazzi Cioè ve l'ho detto prima I due braccetti Che diventano Uno che crossa L'altro che fa gol Giocatori che danno Tanta qualità Poi a centrocampo Soffre Ma l'Inter dimostra Saper soffrire E vincere le partite Vincere a Bologna Non è scontato Anzi Non dico che è un mezzo miracolo Ma ci siamo quasi Per quanto il Bologna Ha fatto Fino a questo momento E Inzaghi Ci riesce È assurdo Che l'Inter Di Inzaghi Ancora non abbia vinto Uno scudetto Lo vincerà quest'anno Però in questa stagione L'Inter Non ha mai 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 Avuto rivali E la cosa che mi fa ridere È che per lungo tempo Si è parlato Di un Inter Eh però Ruba quello E quell'altro Quando i Nerazzurri In realtà Sono una macchina Da guerra Che merita Merita Meritano Il piazzamento Che stanno ottenendo E meritano gli applausi Per una stagione Completamente Senza senso Fatemi sapere La vostra Con un commento qua sotto Iscrivetevi al canale Io vi ringrazio Tantissimi piace Buon c'è l'alene Come sempre Ci vediamo al prossimo Video